Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Ho visto la partita dell'Inter contro lo Spezia e sono molto contento perché abbiamo vinto 3-1. Il primo gol è stato fatto da Brozovic, ha fatto un bel gol al volo. Il secondo gol l'ha fatto Lautaro e il terzo l'ha fatto Sanchez. Devo dire che lo Spezia ha giocato molto bene nel primo tempo ma anche nel secondo tempo e noi siamo riusciti a far girare bene la palla in tutti e due i tempi. Secondo me il giocatore dell'Inter che ha giocato meglio è stato Barella perché non ha sbagliato nessun passaggio e invece dello Spezia il giocatore che secondo me ha giocato meglio è stato maggiore perché ha fatto un gol bellissimo nel secondo tempo. E se questo video vi è piaciuto lasciate un like e se volete attivate la campanella per essere aggiornati sui prossimi video. Ciao ragazzi! Grazie!